Signora Presidenta, cara Licia, caro Herman, cari tutti amici italiani e cileni, autorità, sono molto molto felice di essere qua assieme alla Presidente Bachelet con voi. Non so se gli imprenditori italiani hanno recuperato il jet lag, so and so, bene, io sempre, ma volevo dare innanzitutto la prima notizia che è gennaio o è dicembre il prossimo anno il primo volo di Alitalia? Allora abbiamo ricevuto l'SMS del Presidente di Alitalia, sarà il primo maggio nel mezzo, più vicino a gennaio che a dicembre e naturalmente da qui a maggio del 2016 avremo già altre 27 visite di Carlo Calenda che è sempre in Cile, è sempre in Cile, io pensavo che in Cile ci fosse solo Francesco Starace, ho detto alla Presidente Bachelet che quando ho chiamato Francesco per proporgli lo scorso anno di diventare amministratore delegato di Enel, allora si occupava di Enel Green Power, era in Cile, poi abbiamo fatto un E ed era in Cile, allora ogni tanto rimandamelo anche indietro perché ogni tanto ci serve anche in Italia ma scherzi a parte è molto molto importante ciò che stiamo facendo in questo Paese e ciò che voi state facendo nel nostro Paese perché io credo che la vera sfida di oggi tra di noi sia quello di riuscire a giocare un ruolo non soltanto per il passato dei nostri Paesi ma per il futuro, ecco perché abbiamo firmato qualche istante fa, qualche minuto fa l'accordo contro le doppie imposizioni e siamo impegnatissimi perché il Parlamento, i Parlamenti le approvino, le ratifichino nel modo più rapido possibile, siamo molto fieri e orgogliosi di tutte le vostre iniziative, anzi per cercare di renderle ancora più operative farò un discorso molto breve così potrete partire finalmente nel lavoro del business forum, siamo molto felici delle iniziative sull'agenda energetica e l'agenda per le infrastrutture e lo sviluppo di questo meraviglioso Paese, siamo molto contenti di tutto ciò che possiamo fare nei settori che sono stati citati dagli interventi dei Presidenti. C'è un punto però ulteriore che voglio citare e che non riguarda soltanto il Cile o l'Italia anche se ciascuno di noi deve fare uno sforzo, trovo molto bello il video che è stato presentato sia da parte cilena dove si tocca la magia di un popolo anche soltanto guardando il video, sia da parte italiana giocando sulle doppie impressioni di un video che racconta alcuni record italiani che talvolta neanche noi italiani riconosciamo, ma quello che ci deve vedere insieme è uno sguardo forte sul futuro, ci sono delle cose da fare subite? Si fanno, bene, ok, ci sono da fare delle riforme, le sta facendo la Presidente Bachelet, le stiamo cercando di farle noi, si fanno, bene, c'è da trovare occasioni di incontro, giusto organizzarsi, ma proviamo a domandarci, da qui ai prossimi vent'anni, trent'anni, come vediamo il futuro del Cile e dell'Italia e soprattutto come immaginiamo che il Cile possa aiutare l'America Latina e l'Italia e l'Europa a affrontare nuove sfide? Lo dico con uno scherzo, con una battuta, qualche giorno fa il mondo intero ha ricordato un film, ritorno al futuro, che per un caso, perché nella macchina di ritorno al futuro l'attore Michael J. Fox aveva inserito con lo scienziato pazzo la data del 21 ottobre 2015, trent'anni dopo, poco meno di trent'anni dopo il giorno della, diciamo, il periodo della realizzazione del film e a me, in tanti di noi, si sono domandati dove fossero quando hanno visto quel film, venticinque, trent'anni fa. Oggi è ancora più interessante non soltanto guardare quale di quelle innovazioni si sono realizzate, domandarsi noi, nei prossimi trent'anni, cosa possiamo fare per il vostro business, certo, ciascuno per il vostro business, ma anche per i nostri paesi. Io credo che noi abbiamo delle caratteristiche importanti. Il mondo che sta cambiando è un mondo che richiede più conoscenza ed educazione. Siamo circondati, bombardati da dati, big data ovunque, ma talvolta non diamo sufficiente importanza al fatto di chi ci aiuta a leggere quei dati. Ecco perché io credo che un business forum non possa non citare l'importanza della cooperazione universitaria, educativa, del capitale umano. Siamo in un mondo nel quale viviamo più a lungo, fortunatamente. In tutti i nostri paesi l'età media si allunga, è un fatto bello. Da noi, cara Presidente, ogni tanto arrivano dei funzionari o dei ministri, o più che ministri, diciamo, delle persone che fanno il bilancio e dicono abbiamo un problema. Cosa? I pensionati. Cosa vuol dire? È che in Italia si vive più a lungo. Ora, io non so quanto... Sì, può essere un elemento di difficoltà nel budget, ma non è un problema. Anche perché, come diceva Woody Allen, invecchiare non è granché, ma è sempre meglio che l'alternativa. Allora, se noi immaginiamo che stiamo vivendo più a lungo, come viviamo? Qualità della vita, cibo, non soltanto perché uno chef stellato cileno ha fatto innamorare Licia, come abbiamo scoperto, ma anche perché la qualità della cibo, della comida, della qualità del food, della sicurezza, è un elemento fondamentale. I vini, la cultura, l'arte, quello che qualcuno di noi, vedo nero qui, chiama la wellness community, che tiene insieme uno stile di vita con il desiderio di apprezzare la bellezza che la nostra gente in Cile e in Italia esprime. E allora, se questo è, non vorrei darvi l'impressione di essere andato fuori tema, anche la qualità dell'ingegneria italiana o cilena o l'innovazione tecnologica applicata al prodotto o la trasformazione del processo della manifattura è un elemento chiave di quello che vogliamo essere da qui a 30 anni. Non pensate dunque che questo business forum sia solo l'occasione per stringere qualche accordo. Spero che siano tanti e che siano anche aiutati dall'accordo sulla doppia imposizione. C'è anche questo. Ma quello che ci caratterizza insieme e per il quale entrambi, la Presidente Bachelet e noi, stiamo cercando di lavorare, è perché i nostri paesi, facendo le riforme, siano in grado di scrivere una pagina nuova nella storia dell'America Latina e dell'Europa. E nel farlo possano creare le condizioni alle aziende, alle imprese, alla partnership pubblico-privato di essere in grado di scrivere pezzi di futuro. Questo è l'obiettivo del nostro lavoro, questo è l'obiettivo del vostro business forum. Io sono molto felice che se ci saranno occasioni di investimento ulteriori, l'Italia quest'anno fa più 4,7% di export dati aggiornati a ieri, ero scoperti aggiornati proprio a ieri l'altro, non a ieri. È una percentuale buona, ma vogliamo fare di più. Vogliamo però contemporaneamente anche avvicinare quante più persone possibili a investire in Italia, ma sempre partendo da un giudizio, che è quello che il mondo di oggi ha bisogno, sì, della capacità delle imprese di affrontare la realtà, ma soprattutto della cosa più importante che hanno le imprese cilene e italiane. La propria intelligenza, la propria capacità di adattarsi, la propria passione per il proprio lavoro. Ecco perché io sono davvero felice e orgoglioso di essere con voi. credo che da qui ai prossimi appuntamenti, da qui al primo maggio quando ci sarà il volo all'Italia, da qui alla prossima missione ufficiale a Santiago, naturalmente segnatevi la data del 26 maggio quando si inaugurerà la Biennale di Venezia, aspettate a segnarlo perché forse il 27, comunque il 26 o il 27 maggio, quando si inaugurerà la Biennale di Venezia e sarà per alcuni aspetti impreziosita dalla direzione artistica cilena, io credo che in questi appuntamenti che ci attendono, a questi appuntamenti dovremo arrivare preparati ed arrivare preparati significa fare più business, certo, ma soprattutto ricordarci che ciò che ci unisce è uno straordinario sentimento di amicizia, di fraterna amicizia, di valori profondi, l'accordo di Banca Prossima va in questa direzione, di valori che sono valori che uniscono Cile e Italia da anni e anni e che provocano un'emozione. Tutti voi fate business, ma tutti voi sapete che anche nell'economia, anche nel vostro business, l'elemento principale non è mai soltanto l'aspetto economico, ma è il valore profondo che generate, valore economico e anche valore emozionale e culturale. Per tutti questi motivi, grazie al Presidente Abbaschile per l'accoglienza, grazie a Sofava per l'invito, grazie agli imprenditori cileni per le occasioni di collaborazione e grazie anche agli imprenditori italiani che sono qua, sono fiero e orgoglioso di rappresentare un Paese solido e solidale come il nostro, capace di scrivere assieme agli imprenditori cileni una pagina nuova del nostro domani. In bocca al lupo. Grazie.